Buongiorno e benvenuti anche oggi dalla parte bolognese, detto tra noi, anche se siamo un po' come dire al confine tra Modena e Bologna, in quanto parliamo di un grande personaggio modenese che ha deciso di vivere questi anni di arte e di grande arti visive, di cui è un maestro, a Bologna per respirare forse l'aria dei colli, per cambiare un po' come dire anche ispirazione, per continuare ad essere un grande punto di riferimento per l'arte italiana, in particolare per la pittura, ma non solo, quindi do il benvenuto all'amico Erio Carnevali. Buongiorno, ciao Erio, benvenuto a TRC qua a Bologna, praticamente è la tua nuova città, anche se Modena resta sempre nel cuore, no? Certo, ma questa è la mia nuova città dove io ho tutto il rabito, quindi bisogna tener conto anche di questo. Tengo conto di entrambe le cose. Erio Carnevali è qui perché appunto adesso lavora a Bologna, ha continuato a lavorare un po' per tante commesse a livello nazionale e internazionale, è un artista conosciuto anche oltreoceano, dove ha anche moltissimi amici, li vedremo tra poco anche nel corso della puntata, con immagini e filmati, che metteremo in particolare foto, metteremo in onda. Insomma Erio, Bologna, un atelier a Bologna, lavori qui, adesso di cosa ti occupi in particolare? Attualmente mi sto occupando di insegnamento, non è il mio mestiere fare l'insegnante, ma tuttora mi sto occupando di insegnamento soprattutto verso le insegnanti. Sì, chi deve poi insegnare. Sì, per creare un po' dei vettori, io ho questo metodo che ho studiato col mio staff, ma uno staff importante, che ha quindi anche delle radici di conoscenza, anche pedagogica, non soltanto artistica. Insieme abbiamo messo un metodo che parte un po' da lontano, perché parte da un grandissimo maestro, che era Bruno Munari, insomma, che abbiamo conosciuto da noi, uno dei grandi esponenti del movimento di arte concreta, e però ho pensato che alla mia età, io insegno anche ai bambini, faccio lezioni ai bambini elementari, alle medie, anche fino ai 5 anni delle scuole dell'infanzia, ma ho pensato che alla mia età, ho insegnato 3.000 bambini, però il mio metodo per potersi espandere ha bisogno di alcuni vettori, e i vettori sono gli insegnanti. Io sto facendo questo corso, che sono partito, spero che poi ne parleremo in maniera più precisa, questo corso di insegnanti che avrà, secondo me, uno sviluppo interessante. Ecco, qui ti vediamo all'opera, non delle tue. L'opera di solito sono grandi te, le tue, no? Sì, qui siamo a Los Angeles, esattamente a Beverly Hills, dove è stato improvvisato un atelier sopra a un'enoteca, perché dovevo dipingere alcuni quadri per questa enoteca. E allora, siccome il mio studio di Los Angeles è piccolino, non è grandissimo, è un loft piccolo, qui invece avevo bisogno di spazio, loro mi hanno dedicato un intero primo piano, vedi che abbiamo tutto bardato intorno, sotto c'era l'enoteca, sopra diventava il primo piano dell'enoteca, e io ho fatto questi grandi quadri per loro, per questi impresari. Questo invece che cosa è, ad esempio? Invece qui siamo a Castellaneta, in un progetto dedicato a San Francesco e Santa Chiara, è un progetto dell'architetto Paolo Portoghesi, con il quale io collaboro da anni, io ho disegnato l'altar maggiore, questo è l'altar maggiore, qui sono alcune immagini dell'altar maggiore, soprattutto la cosa interessante è lo stupore, lo stupore che si vede da parte dei... dei porporati, dei corpi ecclesiastici, che guarda questi colori che io ho fatto, perché è una delle prime chiese al mondo che non ha immagini. Esatto, l'immagine è il colore che si intersecano, che danno vita anche a un'immagine onirica di fatto. Questo è come era prima, poi dopo come è diventato, ma questi sono proprio... quando è stata consacrata la chiesa, che c'è una cerimonia particolare, ma qui abbiamo visto proprio questi grandi personaggi che guardano là in alto, è quello che io volevo, cioè lo spirito che va verso l'alto, con un'immagine sacra tradotta nella tua arte. Dicevi che insegna gli insegnanti, è un progetto importante, è un progetto anche innovativo, che riguarda la città di Bologna, la regione, ci sono situazioni anche che possono anche allargarsi, ma che ad oglio, perché gli insegnanti hanno bisogno di... continua conferma e continua anche aggiornamento professionale, in particolare se lo fa un grande artista come te. Questo sì, questo ha avuto un grande risultato, io avevo chiesto di fare un corso per 25 insegnanti, anche perché ad operando un'aula, un'aula stava 25 persone, in realtà le domande sono state oltre 90, quindi hanno dovuto portare a 31 il primo nucleo. Chi ha finanziato questa iniziativa è la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, la quale sapendo il risultato mi ha proposto di ripetere... Di continuare. Il finanziamento, sì. Ovviamente non... La cosa, voglio dire, è molto interessante, perché poi ho trovato anche un riscontro. Le stoffine di giovedì, c'era l'ultima lezione, sono gruppi di tre lezioni da due ore cada uno, oltretutto c'è una cosa da riconoscere negli insegnanti. Questi lavorano un giorno, dalla mattina fino al pomeriggio, poi dalle quattro e mezzo, prendersi su fino alle sei e mezzo e venire da noi a fare questa lezione è una cosa molto... Ecco, come nasce la tua arte? Come nasci tu artista? Ma io nasco come artista da bimbo. Quando mio papà e mia mamma mi regalarono quei pochi colori che potevano regalarmi, io vengo da una famiglia di operai, insomma, quindi... E cominciai a lavorare con questi colori e mi appassionarono. Mi appassionò soprattutto il riscontro che dava il colore. Sì. Non era la riproduzione di qualcosa, era importante verificare che io riuscivo a trasmettere quello che pensavo con quel colore. Allora ho capito che quella era la mia strada. Quella era la tua strada? Trasmettere le tue sensazioni, le tue emozioni attraverso i colori? Corrispondevano. Perché poi le tue opere sono composte da lavoro sul colore in particolare, no? Sì, sì, sì. Ecco ti qua al lavoro. Qui siamo a Budva in Montenegro dove sono stato chiamato a decorare alcuni muri e fare dei quadri per un'azienda italo-russa. Sì. Ecco l'importanza... Franco-russo, perdone. ...del lavoro internazionale. Tu hai lavorato moltissimo con committenti esteri, con grandi personaggi stranieri, sei amico anche di importanti attori e personaggi, diciamo così, non fa parte del colore. Però sai, poi alla fine diventa importante anche la trasmissione della conoscenza nel mondo dell'arte. Tu sai molto bene che ci si trasmette anche la qualità e la conoscenza dell'artista. Qua c'è da Solo Cune, c'è Dario Ballantini, anche altri maestri. Sì, c'è Dario Ballantini. Qui siamo in galleria dove io lavoro, con la galleria di... al centro c'è il mio gallerista che è De Magistris. Sì. Di fianco a me che io abbraccio è Eugenio Carmi, che è recentemente scomparso, 95 anni, ne aveva... E Luciano Caprile, quello a fianco di Dario, è Caprile, che era il critico che in quel giorno presentava la sua mostra alla galleria San Carlo di Milano. Ho capito. Dove io lavoro, io lavoro con la galleria San Carlo di Milano. Certo. Ma anche perché, ecco, questo qua è Paolo Portoghesi. Sì, con Paolo, con Paolo. Qui siamo alla presentazione della mostra a Roma della Via Crucis, della mia Via Crucis. Ovviamente lui si è sempre molto prestato. Questa Via Crucis è stata poi acquisita in Vaticano. Ecco, Portoghesi è un architetto molto, come dire, visionario, no? Nelle sue manifestazioni. È un grande, ha sempre corso i tempi, in particolare anche dal punto di vista delle architetture religiose, è sempre stato non banale nelle sue iniziative. No, 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 ma lui è un architetto affermato in tutto il mondo. Io che viaggio e che ho conosciuto anche architetti all'estero, parlo di Gheri, per esempio. Certo. Lo conosce perfettamente, conosce le sue teorie, perché Portoghesi ha questo di grande vantaggio rispetto agli architetti in genere. Lui è uno storico dell'architettura. Certo. Quindi lui è un progettista, ma poi sai, è il primo che ha progettato la grande Moschee a Roma, quindi è un personaggio che ha dato molto e soprattutto ha un grande cultura del barocco romano. Certo. Lui è, conosce benissimo, ha fatto testi splendidi e io collaboro e sono felice di collaborare con lui perché lui è il mio grande maestro. Lui, tutte le opere che lui fa chiama a me come parte, come parte così. Parte artistica. Artistica, diciamo così. Senti, qui siamo con, guarda che carino, con Franco Farina e Sapone, che è un gallerista di, qui siamo a una mia mostra vicino a Pieve di Cento, non so se è il Museo Bargillini. Sì, certo. E mia, con un altro grande artista che si chiamava Kino e c'è, si vede Franco Farina e di fianco c'è Antonio Sapone che è un gallerista incredibile di Nizza, italiano, trasferito da giovane a Nizza che tiene anche qualche mia opera e mi fa questo grande onore perché lui è il gallerista di Artung, di Burri, di questa gente. Questo è il più grande gallerista di Francia. Ok, anche se è italiano che si lavora comunque. Sì, no, ma lui è da me. Tu pensa che lo zio suo era il sarto di Picasso. Allora? che Picasso pagava che Picasso pagava i quadri. Beh, allora ha fatto fortuna. No, difatti, e la galleria è nata grazie a questo. Ha avuto certamente un bel incipit. Beh, qui tu sì. Qua è Andy Garcia, insomma, un grande attore americano. ruotano tutti intorno a questi grandi ristoranti italiani. Il mio manager, fra parentesi, è un grandissimo chef italiano. Ah, ecco. Siciliano. Siciliano. Si chiama Celestino Drago. Quindi si va a mangiare, si civa di arte e di cibo italiano, no? Sì, sì, sì. E questo che conta in Italia, all'estero, secondo te, conta ancora questa nostra immagine qual è all'estero? Ma l'immagine italiana, intanto, è quella della Ferrari di Pavarotti. Quindi noi siamo a casa. e soprattutto sì, delle macchine, delle grandi macchine, la Ferrari, la Maserati, la Lamborghini, per esempio, per esempio, sì, sì, la Maserati sono tutti attaccati alla Maserati. Qui siamo con Luca, c'è un giovane Montezemolo. Eh, con Luca, siamo con Luca all'arte fiera, dove avevo uno stand del mio gallerista di Forlì. Sì. Vabbè, comunque, in America, quindi, l'immagine, io sono abbastanza conosciuto, nel senso, però, nella zona di Los Angeles, dico la verità, Los Angeles, Malibu, queste zone. La zona di artisti, eh? Ma sì, la zona dove Beverly Hills, che poi è un tuttuno ormai, perché ormai Santa Monica, Beverly Hills, sono comuni, autonomi, ma di fatti sono inglobati in questa città. Unica città. Ma sì, perché adesso, se c'è qualche immagine, te la farò vedere. Io, quando, guarda, guarda, questo qua è un grande personaggio. Sì, certo. Un attore importante, faceva i film western. Sì, sì. Parla benissimo italiano. Era sempre l'antagonista dei grandi personaggi, l'antagonista Clint Eastwood, l'antagonista, no? Lui ha voluto venire fuori, perché presentavamo il mio libro, una pittura di polvere, proprio a Los Angeles, a Beverly Hills, qui siamo a Beverly Hills, esattamente, vicino a Rodio Rod. E lì c'era, c'era lui che è uscito, abbiamo prenduto lì, abbiamo aggiunto insieme, poi ha voluto fare una foto, ce n'è un'altra, molto carina, che qui non ho, ma lui vuole fare il duello. 90 anni, eh? Ah, sì, sì, tanti recitavo nel 1960 con Sergio Leone, quindi conosciamo quegli anni. Senti, come si aggiorna un artista come te? Come si aggiorna? Si aggiorna girando, girando, guardando, servando. Essendo curioso, è un artista curioso per natura. Certo. È curioso per natura, deve cercare però di distillare, questo è uno degli elementi che purtroppo non sempre si ha nel mondo dell'arte. Se tu guardi gli artisti, gli artisti, molte volte sono, noi abbiamo sempre visto gli artisti fermi, chiusi nei loro teliemi. Oggi è cambiato il mondo, bisogna girare. Questa è una cosa splendida, questo qua è un bellissimo murales che ho fatto con i bambini cubani. Bellissimo. E invitiamo coloro che vanno a Lavana, se vanno a Lavana, nella casa dei pionieri dedicata a Che Guevara, nell'ingresso c'è questo grandissimo murales che ho fatto con i bambini cubani. Bellissimo, Erio. E questo murales è gli abitanti del mare. Ah, vedi infatti. E il mare è visto non come divisione, ma il mare è visto come unione fra i popoli. Quindi un'immagine positiva, un messaggio positivo. Sì, sì, ma i bambini, ho delle foto bellissime di questo atelier che ho fatto con loro, è una cosa splendida. È stata un'occasione unica per conoscere i bambini cubani, per conoscere Cuba in maniera molto più approfondita e soprattutto di vedere anche, tuttora io ho rapporti con loro, nel senso che buona parte dei colori che vi vengono regalati, dei pigmenti, attraverso un amico che è Ruggero Di Paola, se ne vanno verso l'avana. Verso l'avana. Perché loro ancora non hanno grandissimi mezzi. Possono essere utilizzati dai bambini cubani. Non hanno grandissimi mezzi, purtroppo. Senti, in Italia e in Emilia-Romagna si riesce a sperimentare con l'arte? Ci sono le condizioni. Io in Emilia-Romagna ho sperimentato con l'arte. Ho sperimentato a livello aziendale, ho sperimentato anche a livello più complessivo. Mi spiego. A livello aziendale, perché con una grandissima azienda, io ho disegnato delle lastre importanti, con due grandi aziende. Una che produce macchine, i macchinari per ceramiche. Sì, la system di Fiorano. Sì, e l'altra è l'Iris. L'Iris ceramica. Con cui la nostra collaborazione è un po'... Insomma, comunque, è stata una collaborazione molto interessante, nel senso che loro hanno messo a disposizione la loro tecnologia. Sì. Io il primo lavoro l'ho fatto e poi dopo loro l'hanno riprodotto, l'hanno riconosciuto, l'hanno venduto, l'hanno promosso. Certo. Forse non nella maniera adeguata. No, sono scelte aziendali. Scelte aziendali che io non discuto. Discuto però il risultato. All'Equipe Hotel di Parigi, nel 2014, la nostra lastra ha vinto il premio mondiale per la più bella lastra, per il più bel decoro. Ecco qui. Queste sono immagini, vedi, dell'arte fiera del Cersaie di Bologna. Sì. Questa è la lastra color italiano e quella che ha vinto a Parigi. Bellissima. È un'opera d'arte più che un'alastra. Questa è un'opera d'arte. Sono tre metri per un metro e mezzo. È enorme. È una cosa enorme. Certo. E devo dire che chi ha lavorato con me, soprattutto nel reparto creativo del settore, ha creduto moltissimo in questo. Certo. Debo è molto bravo, una signora molto brava, veramente molto brava. C'è anche una grande profondità. Ecco, qui siamo l'equipo. Questo qua è lo stand dell'Iris a Parigi. A Parigi, certo. E quella lastra, la prima è quella che ha vinto il premio. Dei 16 grandi esperti mondiali hanno scelto quella lastra come prodotto più bello di quel salone. Ovviamente. E ha avuto questo Oscar. Questa è una lastra della System. Sì. disegnata da me e dipinta da me e che è stata acquisita dal Museo di Praga. Ah, quindi a Praga. Questo è un museo. Sì, il Museo d'Arte è il Museo Civico di Praga. Tu sei presente un po' in tutto il mondo. L'aeroporto è la nostra Emilia in tutto il mondo. Sì, ormai. Possiamo parlare di Emilia. Anche al di là dell'Occino. Nell'altro mondo dove non c'è l'Orsa Maggiore ma c'è un'altra costellazione. Senti, però ti dai veramente molto da fare perché spazi veramente anche ti occupi del vetro ti occupi di... Adesso stai, mi dicevi prima di andare in onda che stai occupando anche delle vetrate vaticane. Sì, debba dire di un grande istituto vaticano. Sì, un grande istituto vaticano. Sto studiando cinque lastre dedicate a questo. Questo, guarda, è il mosaico che hanno acquisito la fotografia del mosaico che hanno acquisito a Ravenna. Ah, certo. Che è la città del mosaico di Ravenna. Sì, sì, sì. Beh, io posso... Le mie radici italiane sono radici che non sono da disconoscere. Le mie radici italiane sono importanti. Ecco, questo invece è il mosaico all'ospedale di Baggiovara. Di Baggiovara. Quando si entra c'è questo bellissimo mosaico di aereo Carnevali che... Ecco, questo mosaico di cui ti parlavo prima che io ho sperimentato in Cina questo è l'hotel della Concordia lì a San Posidonio. Certo. L'hai sperimentato là ma l'hai realizzato qua. Cì, sì, però ho visto qual era... Non conoscevo... Era stato il mio primo che ho fatto il mio primo grande mosaico e però volevo conoscerlo quindi ho dovuto lavorare sulle teste ho dovuto lavorare sul cartone ho dovuto lavorare su... La difficoltà era a trovare materiali così grandi cioè nel senso tu lastra tre e mezzo per un metro mosaici estremamente complessi comunque con ambientazioni là quando sarà stata grande quella cosa dell'hotel Concordia sarà stata quattro metri? No, no, cinque metri per tre Ecco, cinque per tre Ma beh, sì però tu fai... lo costruisci poi lo tagli lo fai per terra poi lo tagli adesso se c'è qualche immagine dell'ospedale Carigi che quando uscirà te lo farò vedere tu cosa fai? Prepari il mosaico lo fai mettere a posto poi dopo arriva in piastrelle di fatto Sì, ah ok Questa è una cosa molto bella Sì, torniamo indietro per cortesia Marco Micheli, nostro regista che ringraziamo sempre Ecco, questa è una cosa bellissima Bellissima e spiego perché Spiego perché Questa è una cosa a proposito del riferimento dell'insegnamento ai bambini l'arte sui bambini Certo C'era da... c'è stata da fare da ricordare ecco, da ricordare quello che è stato il periodo il periodo in cui i bimbi ebrei erano perseguitati Sì, ma i loro genitori insomma e Don Beccari Sì, di Nonantola di Nonantola era un prete che salvò tanti di questi bambini Certo Don Beccari però era nato a Castelnuovo-Rangone Ah, di Castelnuovo E cosa successe? Mi hanno chiesto e questa è la parte finale mi hanno chiesto stiamo fermi con un momento che è interessante questa è la cosa che devo raccontarvi è successo che bisognava fare quindi nel momento in cui si faceva si dedicava a questo asilo nido questa scuola materna asilo nido erano un po' insieme a Castelnuovo-Rangone dedicata a questo grandissimo prete che tu sai che è nel protagonista di Mila Emma che è nei giusti Sì, sì, sì a Yed Vashem in Gerusalemme io ho visto la pianta dedicata a Don Beccari a Yed Vashem a Yed Vashem e cosa è successo? è successo che bisognava tradurre a questi bambini di queste scuole elementari abbiamo preso due a Montale due o tre a Castelnuovo bisognava portare loro il senso del ricordo sì ma non non sta un artista a portare il senso del ricordo guarda che i bambini come te erano perseguitati stavano male non volevo arrivare a questo anche perché nel momento attuale questo è una cosa che poteva non solo turbarli ma poteva anche essere non produttivo certo, certo allora abbiamo pensato col mio staff a una cosa molto più semplice l'avevo fatto disegnare ovviamente dando delle tavolozze a queste scuole tanti piccoli disegni che sono stati messi e montati su un pannello lì si vede bellissimo poi cosa abbiamo fatto? abbiamo coperto con un pannello io ovviamente ho studiato un pannello di Plexus Blue con dei buchi che però riproducessero prendessero tutti i disegni certo eccolo qui e compare qua e compare che cosa? compare il ricordo praticamente del disegno sotto per cui il bambino si ricorda il vecchio il disegno grande che ha fatto che è stato montato su questo pannello quest'altra lastra lo copre gli rimane soltanto un segno piccolo della sua presenza del suo lavoro quindi è un lavoro sulla memoria è quindi un lavoro sulla memoria sulla memoria certo molto molto interessante infatti da questo si parte per poi il progetto finito quando tu parli di staff a chi ti riferisci? un gruppo di persone che collaborano con te? intanto a mia figlia che è storica dell'arte laureata alla cattolica a Milano poi ha fatto il Warburg Institute adesso ha una borsa di studio di ricerca a Warwick poi mi riferisco anche a dottoressa Pignati che è un'esperta di pedagogia e soprattutto applicata all'arte quindi noi abbiamo questo staff abbiamo insieme queste cose perché io sono un artista non è che sono l'ho sempre detto sono un insegnante devo dire però che lavorare con i bambini è splendido ecco come esprendi da questa cosa vedi questa è una piscina all'Onisos è un'isola delle Sporadi sotto la quale c'è una tua opera eh sì sì questo signore che è un piccolo armatore si può fare il bagno in un carnevale quindi è possibile fare il bagno in un carnevale sì piscina olimpica eh sì e questo signore spede più di 150 mila euro solo di mosaico lì più tutto quello che c'è all'interno qui siamo proprio su quest'isola e si vede in fondo l'Egeo sì eh sì questa è una una piscina fatta davvero fantastico Erio se uno volesse poi ritornare a essere un tuo allievo pur sendo un insegnante bisogna aspettare il prossimo anno o no? adesso cosa succede? succede questo sì succede questo succede che allora io ho avviato una serie di di insegnamenti presso le scuole del bolognese sì siamo qui possiamo dirlo attraverso una grande azienda che è stata la prima che ha creduto nel mio lavoro eh si chiama Cobreno tanto così lo dico anche perché è giusto che che si sappia che lavora più che prevalentemente nella bassa bolognese no? sì di fatto io tutti i paesi a cominciare da Minervio per andare a fine a San Giorgio di Piano per andare a finire a San Pietro in Casale la cintura nord della via Emilia Molinella ma anche Imola no? sono andato quasi a fine romana poi siamo andati nel Ferrarese Berra cioè questa è realtà io ho insegnato a queste bambine dell'elementare e tutt'ora lo faccio perché loro cosa fanno? attraverso le azioni soci chiedono dove volete spendere i vostri soldi che vi aspetta molti azioni soci optano per questo insegnamento presso le scuole e i bambini quindi insegnanti e bambini è vi che ho avuto il massimo perché io ho insegnato in Germania e tutt'ora a Monaco ma ho insegnato in Belgio e a Bruxelles e quindi ma anche in Italia e questa è stata una cosa secondo me che si è spalmata sul territorio bolognese adesso anche sul modenese perché io si insegno anche in alcune scuole a Castelfranco per esempio o una scuola privata che è la Carovana sì però si sta espandendo anche presso le scuole nostre perché questo secondo me è un metodo importantissimo un metodo importante è innovativo a differenza del mio grande maestro che ha insegnato delle grandissime tecniche disegnare noi pensavamo si disegnasse con la matita con il pennarello si disegna con le mani si disegna si disegna voglio dire con la luce con la luce si disegna col nastro tanti modi di disegnare quindi la tecnica lui ha veramente aperto il cervello questa cosa splendida ha fatto delle cose meravigliose io ho fatto un salto in avanti anche grazie a questo lavoro insieme di insieme d'equip e ho pensato che il bambino debba essere preso per quello che ti può dare la testa quindi un discorso concettuale certo noi dobbiamo lavorare su quello sull'identificazione concettuale del bambino perché quello permette a lui di vivere anche una vita diversa non di gruppo ma individuale nel gruppo è una cosa diversa certo può sperimentare le proprie aspirazioni quello che sente suo pur facendo parte di un gruppo attraverso l'arte certo non è così dicevi anche diventa difficile adesso anche rintracciare grandi volumi di vetro o di altri elementi perché è sempre difficile avere a che fare con aziende che riescono comunque questo è un tasto dolente una volta era diverso adesso mi si fa fatica difatti questo è un tasto dolente purtroppo anche l'ultima azienda con cui io collaboravo sul vetro artistico parlo chiaro sta chiudendo a fine anno chiuderà non c'è più mercato non c'è più soprattutto sai cosa secondo me non c'è la voglia di riprendere di riprendere quota dal punto di vista artistico e culturale cioè io con una battuta dico sempre qui stiamo facendo i chicchi del mio grappolo sì quello che è presente nella rotatoria che non lo sapesse vicino a Modena per entrare in città eccolo qua il mega grappolo che rappresenta la bontà del vino insomma Emiliano Modenese in particolare Lambrusco in particolare che accoglie chi viene dalla Vignolese piuttosto che dalla montagna accoglie appunto i cittadini eccolo qui il grappolo e chi ha fatto chi ti ha trovato questo vetro adesso purtroppo non riesce più anche Murano sì anche Murano poi c'è questo gioco strano Murano per cui tu vai a Murano e trovi vetro di Murano non prodotto fatto a Murano ma vetro di Murano perché cosa fanno i cinesi comprono il vetro di Murano lo fanno e poi possono per legge mettere il vetro di Murano esatto essendo andato comprato a Murano questo qua è una fontana una fontana di luce fatta sempre di di canne di Murano di vetro di Murano sono canne sono canne che parlano sono canne montate con un dentro una specie di di palo di acciaio sì e ci sono dei soffioni sotto non ci sono degli sbassi ecco la lì vedete questi soffioni ci vedono i soffioni che fanno questo rumore e poi quando passa il vento si muovono anche le canne e quindi suonano suonano come se parlassero attraverso il vento anche di sera sono veramente bellissimo sono bellissimo Erwin Carnaval è dovuto trovarci oggi ma tornerà a trovarci intorno a Natale per raccontarci anche altre abbiamo fatto un accordo diciamo così ad personamo con lui per continuare a viaggiare nell'arte sarai ancora nostro ospite tra un mesetto circa poco prima di Natale per parlarci un po' ancora della sua grande e immensa arte grazie che è stato nostro ospite a TRC io ringrazio voi siete sempre molto gentili siamo qua adesso pubblicità e poi la linea nostra Riccarda Riccò per continuare la nostra parte bolognese dentro tra noi grazie a tra poco grazie a tutti grazie a tutti